Direttore, che cos'è il piano integrato di salute? Il piano integrato di salute è uno strumento che è stato immaginato all'interno della pianificazione regionale per produrre un progetto di salute di una collettività. Quindi in pratica noi mettiamo insieme attraverso il profilo di salute le informazioni di tipo oggettivo, quelle epidemiologiche sullo stato di salute dei cittadini, in questo caso della zona grossetana. Poi le confrontiamo con l'immagine di salute, cioè ciò che i cittadini pensano della loro salute e quali sono le cose che loro immagino debbano essere fatte per affrontare i problemi di salute. E diciamo alla fine tutto questo, attraverso un meccanismo di partecipazione attiva anche dei cittadini, oltre naturalmente dei tecnici, dovrebbe determinare le azioni che nell'arco di un certo periodo di tempo si intendono mettere in campo per contribuire a questo progetto di salute. Questo non solo sul versante della produzione dei servizi sanitari, ma anche in relazione a tutta una serie di azioni che possono essere messe in campo per agire su quelli che vengono chiamati determinanti di salute. Faccio un esempio, Grosseto è un, rispetto ad altre aree della Toscana, è una zona dove c'è una forte incidentalità. E' chiaro che i problemi legati all'incidentalità, quindi gli infortuni o anche la morte per incidenti stradali, può essere affrontata da tanti punti di vista. Naturalmente c'è un ruolo del Servizio Sanitario Nazionale nel miglioramento dei 118, dei servizi di emergenza e urgenza, dei pronto soccorsi, eccetera, eccetera. Ma c'è anche un modo di affrontare queste questioni che riguardano naturalmente la viabilità, che riguarda il modo con cui si immagina la mobilità in un certo territorio. Quindi, diciamo, questioni che non riguardano direttamente la sanità, ma che riguardano altri soggetti. Che verranno chiamati, in qualche modo, anche loro a contribuire alle azioni che vengono individuate. Il piano integrato di salute identifica quali sono i problemi, condividendoli con la cittadinanza, con i cittadini attivi, con le istituzioni. Identifica quali sono i problemi e accanto a questi problemi cerca di mettere in campo le azioni necessarie e possibili, naturalmente, sia da parte della sanità, sia da parte della società della salute, che integra il socio sanitario a livello territoriale, ma anche di altri soggetti che sono presenti nel territorio. Si tratta di un metodo internazionale? Da anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea la necessità che ci sia una partecipazione attiva nella costruzione di progetti salute in ogni comunità. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando pensa a queste cose, non pensa solo a Grosseto, pensa magari al centro Africa, al Sud America, agli Stati Uniti, come appunto pensa all'Italia. In Toscana da anni si sta mettendo in campo questo tipo di logica e via via questo metodo però si è andato perfezionando e mi pare di capire che sta assumendo oramai una dimensione fattuale molto importante, molto precisa e non solo, ma sulla zona di Grosseto la regione Toscana ci chiede anche di sperimentare ulteriori metodi di coinvolgimento dei cittadini. Come funzionerà questa fase della partecipazione? Costruire un piano integrato di salute significa conoscere il punto di vista di tantissime persone, sicuramente la comunità professionale, i tecnici, ma significa anche sentire il punto di vista, capire il punto di vista del cittadino singolo. Abbiamo selezionato un campione stratificato così come si fanno i sondaggi, quelli famosi preelettorali dell'Ipsos. Abbiamo selezionato il campione, lo abbiamo estratto a sorte casualmente. Oggi questo campione lo riuniamo qui, gli presentiamo alcuni dati, gli presentiamo alcune domande e lo facciamo lavorare con delle tecniche, ci sono dei professionisti che guideranno questi gruppi, con delle tecniche per far emergere il loro punto di vista, ma anche le idee che loro hanno che possono diventare un suggerimento importante. Come cambiare i nostri stili di vita? Lo chiediamo al cittadino normale che tutti i giorni vive la sua vita normale. Tra l'altro la particolarità è che la Società della Salute di Grosseto è la prima che dà il via alla partecipazione in Toscana. Sì, siamo la prima, è un'esperienza che siamo anche emozionati nel farla, non sappiamo come andare a finire. Speriamo che sia una cosa interessante per chi partecipa, perché si senta partecipe di questa esperienza, sia interessante perché noi possiamo far emergere un punto di vista, quella che una volta si chiamava l'immagine di salute, quello che i cittadini pensano del proprio stato di salute e far emergere punti di vista originali a cui magari il professionista di tutti i giorni ci lavora, non ci pone attenzione. Grazie a tutti.